Quinti minuti di tolleranza che si può sempre pushare va da un caloroso benvenuto su Grigioni in movimento o poschiamo il movimento come la donna ci va che è un po' di destra che va a disegrare due parole mi penso che può interviare ufficialmente questa giornata la cominciare l'inufemesa speriamo che il tempo al tenere forse farà anche due o tre informazioni basilari che non ho da sapere abbiamo cambiato un po' di impostazione perché vediamo che con il post è con questa posta non c'era nulla amica al massimo allora l'entrata arriva gente che mi hanno passato all'entrata e colocare la tenda con la Svizzera in movimento e c'erano il batch e il sacchettino di fondo che dice c'è più ben simpatico ma non è un po' di blu ma non è un po' di blu non è un po' di blu mettiamo il tre che comincia a dormire la non è un po' di blu ma non è un po' di blu è un po' di blu Grazie grazie